Sì, signori, mi presento questo po' di sede che è una città ma non di Gesù. Allora... È una città non di Gesù. Aspetta. Allora... Iniziamo da? Da il pollo degli indiani. Sì, allora qua c'è la carrozza con un inghiale sopra il tetto e questo che li dicono dove vengono andare. I cavalli. Poi questo è un altro cavallo che dia noto sul cavallo. Questo è un cavallo morto, quello lì. Quale? Questo? Questo qui è un suo barco. Tutti questi membri sono bombe. Poi le tende. Ok. Poi le... Poi questi inghiali sono in trappola e il tetto sono ammazzati. Perché mai sono ammazzati? Perché sono riusciti? Perché sono riusciti a ammazzarli. Ma questo è brutto. Ma sono riusciti. Perché sei brutto. È bruttissimo ammazzare questo pezzo. Molto brutto. Ok. Ok. Qua invece? Qua? No, no, aspetta. Volevo ancora finire il palo degli inghiali. Ok. Poi c'è qua il fuoco con il cestino. Si. E poi... Il cartus. Il cartus. Che sono qua. Due. Questo e qui. Qua c'è qua c'è il vino con le spine. Ancora qua. E poi qua c'è il vino con le teste. Poi adesso siamo alla città. Allora qua c'è il cambio del legno che scende dalla nave. Ok. Poi qua c'è il cala trazzi. Qua c'è il camion con delle cose da portare al lavoro. Qua c'era un cane in mezzo alla strada e si era perso e doveva cercare quello lì che ha il mano rosso. Non è quello. Qua. Devo cercare. Vedere. Oh oh oh. Oh. Cosa lo devo dare? Quasi questo. Eh. Parolini nero. Ok. Poi questa è la maestra. L'autobus. Il papa e quelle del cala trazzi. Ma ormai è lì. Adesso questa è la maestra. poi c'è la puffetta dei puffi due questo è caduto questo cade sempre questo con la carriola questo qui va così poi questo qui è caricato un attimo e c'è il pesciolino che lo sta guardando poi c'è il topolino che cammina una bicicaduta un guirillo lo sto lavorando questo è il seduto queste sono la paimine e questo questa è la macchina dei vigili allora questi qui quello rosso e quello azzurro sono i vigili anche qua e poi il topolino che sta camminando spoggia proprio con la badella e con la barca questo qui è caduto anche qui perchè è la stella che fa cadere sempre la roba qua c'è il suo laboratorio qua c'è il gneppo qua c'è il macchino spoggia tutto spoggia tutto e poi qua c'è il spoggia perchè avete l'idea che è così che è così poi qua c'è c'è il papà con l'osso che lì è in ritardo dove dovevi prendere l'autobus e vi aiutare prestissimo al cane l'osso qua c'è quello che suona il batterio dun 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 con un bel braccio e fate la città come come un presepe e di polio degli indiani e città come come scusate come mi viene a voi ciao ciao ciao